Ornella Muti, ecco quanto prende di pensione. Ornella Muti è una delle attrici italiane più note in assoluto e sono in tanti ad amarla. Ha esordito nel 1969, all'età di soli 14 anni, e nel corso della sua lunghissima carriera ha vinto numerosi premi, facendosi amare in Italia e anche all'estero. La Muti ora ha 68 anni ed appare sempre meno al cinema, probabilmente perché come molti attori ha deciso di riposarsi dopo una vita trascorsa sotto le telecamere. Non mancano però, spesso, gli inviti in televisione. È giusto però chiedersi a quanto ammonti la pensione di Ornella Muti dopo tutti questi anni di lavoro per lo spettacolo. Ebbene, l'attrice non ha mai parlato dell'argomento nello specifico, anche se ha fatto intendere di aver attraversato delle difficoltà economiche soprattutto negli ultimi anni. È probabile che la sua pensione sia molto simile a quella degli altri volti noti dello spettacolo, e che quindi non superi 1000 euro, nonostante il cospicuo patrimonio e la popolarità. Ad ogni modo, la Muti è stata definita come una delle attrici più pagate di sempre e ha anche tante altre entrate. Infatti non ottiene dei guadagni solo dalle ospitate in televisione, ma anche da alcuni locali e ristoranti di sua proprietà, e dalla sua linea di abbigliamento chiamata seduzione. Di conseguenza, probabilmente l'attrice riesce a compensare la sua pensione non particolarmente elevata con le altre attività. Nel corso delle interviste rilasciate negli ultimi anni, pur non avendo parlato delle cifre esatte della sua pensione, Ornella Muti ha parlato delle difficoltà che ha affrontato dopo aver ricevuto un ordine di sfratto. Prima, infatti, Ornella viveva a Roma, ma ha ricevuto uno sfratto proprio dai suoi figli. Perciò è stata costretta ad abbandonare quella casa e trasferirsi a Dovada, in provincia di Alessandria. Come ha raccontato la stessa Muti, la villa in cui attualmente abita era stata acquistata per le vacanze negli anni passati. Infatti aveva trascorso periodi estivi, Natale e Capodanno anche in compagnia dei suoi stessi figli molti anni fa. La Muti ha anche parlato della malattia di sua madre e dei problemi a seguirla, ma ha ammesso di trascorrere poco tempo della sua vita in Italia, e quindi poco tempo nella sua casa di Ovada. Infatti trascorre molto tempo a Mosca, dove lavora e città da cui arrivano parte dei suoi guadagni attuali. A parte questo, l'attrice non ha divulgato altre informazioni sulle sue finanze. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Ornella Muti e conoscevate tutti questi dettagli su di lei e sulla pensione? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.